Musica Si è svolta domenica 12 ottobre in oltre 100 città italiane la FAI Marathon, manifestazione culturale organizzata dalla FAI in collaborazione con il Gioco dell'Otto, il cui slogan è Non Correre scopri l'Italia intorno a te. Si tratta di una maratona soltanto virtuale nell'ambito di una giornata di cultura per scoprire le bellezze intorno a noi. Per la provincia di Catanzaro la FAI Marathon si è svolta nel suggestivo borgo di Squillace dove erano ben sette le tappe programmate. Si abbiamo appunto scelto la città di Squillace che è una delle 120 città italiane che partecipa alla FAI Marathon che si svolge in tutta Italia nella giornata di oggi, proprio perché ci sembrava che questa cittadina potesse dare ai visitatori che oggi sta ospitando un buon bagaglio culturale ma anche una buona tradizione. C'è stata prima appunto parlando di tradizione la tarantella, c'è l'arte dei vasai e quindi questo connubio fra la storia e l'arte rappresenta appunto la cultura che è la cultura calabrese. C'è la dimostrazione di come si fanno appunto le ceramiche qui a Squillace che è tutta una tecnica particolare che diciamo appunto è stata messa a disposizione dei visitatori per apprezzare questa arte. Infatti quando comunque i responsabili del FAI mi hanno proposto di attuare l'iniziativa nel territorio insomma di Squillace io ho subito accolto e sostenuto questa iniziativa appunto perché oltre diciamo all'obiettivo quello di raccogliere fondi dà la possibilità di valorizzare le eccellenze del posto, promuovere appunto i nostri siti che sono storici, culturali, ambientali quindi abbiamo appunto descritto un percorso, abbiamo pensato un percorso di dieci tappe da percorrere, ecco una passeggiata con gli occhi da percorrere in questi siti ambientali, storici e culturali infatti la prima tappa prevista è il convento Santa Chiara, la seconda la piazzetta Miramare che è una paroramica sul golfo di Squillace, la cattedrale, poi la chiesetta gotica che è una chiesetta che non tutti conoscono, appunto è importante che in queste occasioni sia visitabile a tutti, poi il castello, la bottega degli antichi Vasai insomma diciamo tante tappe pensate appunto per valorizzare il territorio e promuovere soprattutto il territorio iscriviti al nostro canale